Essendo un palazzo privato si abbeverava l'asinello, non era stato progettato come palazzo comunale, diciamo come palazzo del potere, era un palazzo, mentre il palazzo vicino alla chiesa è stato sempre, che è attuale sede della Proloco, pensato come un palazzo che doveva nel corso degli anni, per dei secoli, contenere le cose più importanti, i libri più importanti di Rocca Romano, oppure le riunioni, vi si facevano le riunioni dei saggi, degli anziani del paese, poi successivamente il municipio fu trasferito qui, perché si riteneva che lì poi era un po' difficile arrivarci, quindi essendo l'asse principale... E poi c'era fatto la scuola, uomini... Sì, ma non mi riferisco proprio a quella maschile e femminile, un altro palazzo che sta dietro la corsa.